ciao a tutti benvenuti a mintitaro oggi inizia una nuova rubrica con la presentazione di un nuovo mazzo quindi infatti sarà una rubrica dedicata a vari mazzi con cui vengo a contatto e che sono magari particolari e quindi secondo me almeno meritano un video oggi parlerò delle minchiate fiorentine non sono molto conosciute perché appunto sparirono un po della circolazione verso il 1700 però si hanno notizia sia notizia appunto delle minchiate fiorentine già nel 1400 e 4 c'è una versione che è nata verso 1500 metà e 1500 tra il 1526 e 38 mi sembra e è un mazzo molto particolare perché fondamentalmente è un estensione dei del mazzo dei tarocchi nel senso che ha più carte rispetto al mazzo classico di marcia ce n'ha 97 invece che 78 e venivano utilizzate come gioco di carte tant'è vero che c'è un manuale in tedesco d'epoca manuale d'epoca che appunto spiega come giocare a carte con le minchiate fiorentine quello che il mazzo che ho comprato io è una versione una riproduzione del dello scarabeo del di un mazzo del 1725 che si chiama minchiate etruria questa è la cofanetto sono sono delle mazzetti dei mazzi numerati e volevo volevo mostrarvelo perché è veramente molto particolare ha delle differenze col mazzo di tarocchi classico innanzitutto a 20 arcani maggiori in più perché ha tutte le virtù rispetto al mazzo di marsiglia vediamo che c'è la temperanza c'è la forza e c'è la giustizia però ne ha altre quattro che sono la speranza la prudenza questa che la fede e la carità e questi sono sempre arcani maggiori quindi rispetto agli arcani maggiori dei tarocchi a tutte le virtù quattro virtù in più ha delle carte che ne rappresentano i quattro elementi vedete fuoco l'acqua la terra veramente bella e l'aria e in più a tutta una serie di carte che rappresentano i vari segni zodiacali vita bilancia il leone la riete capricorno e così via il rispetto poi al mazzo di tarocchi classico gli manca la papessa perché le prime cinque carte che vengono anche chiamate papi non hanno la papessa non c'è proprio la papessa c'è questa che al bagatto chiamato anche papino poi c'è il gran duca che sostituisce la papessa c'è l'imperatore l'imperatrice anche se ha la barba viene chiamata imperatrice e poi gli amanti che è il quinto papa e poi volevo farvi vedere come dunque cavalieri ha comunque i quattro semi classici coppe denari bastoni e spade questi sono i re le regine e poi ai cavalieri che sono dei centauri e e poi ai paggi che sono sia donne che che uomini quindi diciamo gli arcani minori sono gli stessi sono sempre 56 carte divisi in quattro semi e la particolarità è che appunto come il mazzo di marsiglia a i simboli delle carte non ha disegni a dei simboli però dei piccoli di piccoli disegni completamente avulsi dal contesto così amo semplicemente di decorazione vedete qui ci sono dei dei polli dei galletti poiché sono molto 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 carini questi qui c'è una scimmietta con lo specchio qui c'è un unicorno e sono molto belle questa è la parte dietro delle carte io ve lo consiglio certo è un po più difficile perché poi il libretto di istruzioni a microscopico e semplicemente dall'elenco delle delle carte quindi non da alcuna spiegazione bisogna conoscere tarocchi e soprattutto conoscere gli elementi e quindi cosa 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 vogliono dire quattro elementi che conosciamo già per i tarocchi e soprattutto avere delle nozioni astrologiche perché appunto ci sono le carte che rappresentano i segni zodiacali che possono essere utilizzate sia per vedere le tempistiche di una di una lettura e oppure per vedere le varie case quindi che argomenti di cosa effettivamente si sta parlando se viene per esempio la casa del cancro riguarderà la casa la famiglia cose di questo tipo e questo tipo di mazzo di queste pesci questo mazzo di di tarocchi chiamate micchiate fiorentine veniva anche chiamato germini appunto dalla probabilmente distorsione del termine gemini gemelli che appunto ha uno dei segni zodiacali che è questo qua che è appunto è una delle carte e niente ci stiamo a farvelo vedere perché effettivamente un mazzo molto particolare soprattutto con il fatto che ci siano così tanti arcani maggiori è un numero così alto di carte permette di avere ancora più combinazioni da da interpretare il che come se si arricchisse ancora di più il vocabolario del mazzo insomma e appunto questa edizione dello scarabeo che mi sembra sia più bella rispetto a quelle in commercio e non so forse lo trovate in amazon non lo so ve lo consiglio certo è un mazzo un pochino più per per chi già conosce i tarocchi perché ovviamente non avendo i disegni ad ispirarci e soprattutto avendo i segni zodiacali gli elementi ancora più più virtù da studiare bisogna un attimo avere già una bella base con i tarocchi però ecco è un mazzo storico quindi secondo me per chi è interessato a tarocchi è una cosa in più che fa piacere avere spero vi sia piaciuto questo video se è così mettete il like ditemi anche se avete dei mazzi che volete suggerire perché io non sono veramente una collezionatrice quindi mi fa piacere se qualcuno ha delle idee dei mazzi da suggerire che magari possono interessare anche agli altri quindi niente iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto mettete il like e soprattutto attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo presto ciao